Ciao moms! Hi dads! Hello teachers! Stasera vi portiamo un'attività creativa in English of course. My name is Teacher Angie. With Angel. Teacher Angie and Chanel. E noi facciamo questa live show direttamente dall'Olanda from the Netherlands. Yeah! Però di solito siamo di l'Eco. E stasera io e Chanel non saremo da sole in questa live. Questa volta. Questa volta dovrebbe andare bene. Entrerà una nostra amica che si chiama Cristiana Danisi insieme alle sue figlie Martina e Giulia. Allora stasera abbiamo preparato un'attività creativa molto speciale. Sarà un tipo di selfie. Yes! Andiamo a fare un self portrait. E cos'è che abbiamo bisogno per quel self portrait? Abbiamo bisogno... Andiamo a prenderlo. Excuse me. Paint. We need some paint. Red paint. White paint. Blue paint. Yellow. And yellow paint. Però ragazzi dovete guardarvi. Guardate i vostri colori perché i nostri colori sono un po' blonde and blue eyes and pink skin. Però se i vostri colori sono più scuri certamente non si usa yellow. So, what color would you use? If your colors are darker? Black. Black. Or the color? Or brown. Exactly. Oh, great. Yeah. Però lo sai che ti vuole sempre un po' natino. Ok. So, if we use some tempera, you also have to use some paint brushes. Yeah? E di solito ci vuole la carta perché se andiamo a fare un selfie, un self portrait, dov'è che si dipinge? Si dipinge di solito sulla carta. Yeah, però noi stasera lo facciamo in modo diverso. Andiamo. Andiamo. Andiamo a usare lo specchio. Yes, we are going to use a mirror. Eh, ma andiamo a pittorare direttamente on a mirror? No, we are not. Useremo la pellicola e la pellicola attacchiamo direttamente on a mirror. Hello, Cristiana. Nice that you are here. Ok, so, queste, we are going to use these paints. We are going to use paint brushes. e fra poco giriamo la camera così vi facciamo vedere come abbiamo preparato lo specchio per fare il nostro selfie. La faremo in English, of course, perché se l'inglese vuoi imparare con il gioco, lo puoi fare. E la mamma o il papà o il teacher ti può aiutare. Yeah! Il gioco, ragazzi, genitori, teachers, è la cosa più fondamentale per insegnare l'inglese. E perché? Perché per il bambino il gioco è la cosa più bella che esiste. Si apre il suo cuore e quando si apre il cuore, cosa facciamo noi? Noi ci troviamo dentro. Sack! E mettiamo dei piccoli semi. Hello, my name is, this is the color red, this is blue. E così quei semi cresceranno durante la sua vita, durante la sua infanzia. Per essere raccolti, a essere pronta di parlare English, of course. Adesso basta parlare. Adesso andiamo... Hello Roberta! Hello Annalisa! Hello Christiana! Adesso andiamo a girare la camera, così vedete il nostro set up. There we go! Ok, e chiedo a Chanel di sederci qui perché è Chanel che va a fare questo lavoro. Non sono una pittrici nata, ve lo dico. Però la Chanel disegna molto meglio invece di me. Intanto mi vedete nello specchio. So, andiamo a usare. We are going to use the colors red, white, blue and yellow. And we are going to make a selfie. So, there you go Chanel. Please, be my guest. So, guardiamo la nostra faccia. This is our face. Quale forma? What's the shape of our face? An oval. It's like an oval or maybe a small circle. Ok, please, be my guest. I will use this brush. Ok, she's going to use a bigger paintbrush. Ok, so how do I do this? Do like this? Make it a little bit bigger maybe so everybody can see it in a good way. I will mix some red paint with white paint. Red. Yeah, she's going to mix red with white because that will give the color pink, of course. Yeah, that will give the color pink. E fra poco arriva Cristiana con le sue figlie che ci fanno vedere anche loro la loro creazione. So, we are making a selfie. We are making our face. And Chanel just made some pink paint. And she's going to make the shape of a face. A big, 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 big face. Yeah, great. Should have gone a little bit down but it's okay. Yeah, ok. So, this is the shape of the face. Now, look at yourself. Perché abbiamo usato la pellicola e lo specchio? Perché la nostra faccia viene riflettuto. Riflesso. Fiene riflesso. Così i bambini vedono subito la forma, quella che devono fare. So, what are you going to do now? So, now I'm going to do, let's see, the eyes. Ok, she's going to do the eyes. Are you going to use the same paintbrush for that? Yeah. Ok, she's going to change the paintbrush. What's the color? What are you going to use for your eyes? Blue, because they're, sometimes they're blue, sometimes they're green, so. Ok, so sometimes, can you come a little bit more to the front so people can see you? Yeah, so now she's going to use the eyes. Are the eyes up in the middle or down? Up, of course. They are up, yeah. So, she's going to make some eyes. Ok. Certamente ognuna disegna in maniera sua. Non c'è buono, non c'è sbagliato. Importante è sempre il processo, perché siamo qui per insegnare English. Non siamo qui a lesson, a lesson, of course. So, you made some blue eyes. Uh, what is here in the middle, usually? What are we going to put in? There is a nose. There is a nose in the middle. Ok, so what's the color of the nose? Uh, pink, yeah. Ok, so you will have to use the pink paintbrush again. Yeah. So, she's going to use a pink paintbrush. And she's going, are you going to make a big nose or a small nose? No, medium nose. A medium. Be careful, because I saw that there is blue on the paintbrush. So, take some more pink. How did the blue get under? I don't know. Wait, do you like this? So, now Chanel's going to make a nose and a nose dove? Up, down or in the middle? It's in the middle, a little bit. Oh, I love that nose. Does that look like your nose? Um, yes. Ah, well, ok. Great. So, this is her nose. Great. E se non avete ancora capito che è entrata adesso a vedere il nostro live, stiamo facendo un selfie con la pellicola attaccato sullo specchio. Qualcuno ci sta scrivendo? See, quality box. Martina, hello. Hello, Masha. What's up? Ok, ok, ok. Ok, ok, so now Chanel, what is the name of this part of our face? Mouth. It's a mouth. Ok, so... I'm going to need red paint. Ok, so she's going to make a red mouth. Is your mouth big or small? Small. She's using a small, she's making a small red mouth. And where is that mouth? Is that up in the face, in the middle or down? Down. It's down, of course. Ok, so now what do we find on the outside of our head, of our face? Ears. Those are ears. Two ears. Do you need some pink for that? Yes. Ok, so give me the red. Now she's going to make ears and I will ask her, are those big ears or small ears? No, I think they're small. Ok. Oh, they look so cute, this face. These ears. So she made blue eyes, a medium-sized nose, a red mouth and she makes small ears. Ok, great. Now, what is missing? What is missing? Of course, the hair. The hair, the hair, the hair. The hair is missing. And what is the color of the hair? Well, I have brown hair. We have brown hair, but we only have the color yellow. So for this time... Let's say I'm blonde. Ok, she's blonde. Ok, so is your hair long, just like Rapunzel's hair or do you have short hair or medium-sized hair? Medium? 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 Yeah. Ok. But if we mix the yellow with the blue... No, the mix... That makes... I'm going to have green hair. Ok, she wanted to mix yellow with blue, guys, and she's going to prima superiore. We know that yellow and blue doesn't make brown, does it? I said earlier that I'm not a professional in painting, so I don't know exactly how to... Va bene, ragazzi, non avete sentito questa cosa. So, adesso Chanel sta dipingendo de hair. In italiano? Capelli. I capelli, i suoi capelli sono abbastanza lunghi, they are long hair. Adesso chiedo un attimo a Cristiana, Cristiana, come sta andando? Fra poco ti apro quando Chanel ha finito qui. E sapete genitori, se volete insegnare inglese ai vostri bambini, cominciate presto. I bambini più piccoli sono, meglio è. E non molare mai perché ci vuole tanto tempo. Usate il gioco, usate il vostro amore. E fra poco ci sarà anche una bellissima novità su Teach Angilecco riguardo il gioco in English. Così, stay tuned! Ok, so, adesso che Chanel ha quasi finito, she almost finished her selfie, io vado a chiamare Cristiana. Wow! Cristiana, aggiungi. 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 Ok, so, soon she's going to come. Giro un po' la camera. Così vediamo. There she's coming. Cristiana is coming. Vediamo intanto chi ci guarda. Masha. Hi Masha. Go Cristiana! Yeah! Quality box. He says green. Ok. E Cristiana dice che anche le sue figlie stanno disegnando. e adesso fra poco arriva Cristiana in questa live, ma come sapete la tecnologia è sempre abbastanza difficile perché ci vuole un attimo di tempo con la connessione. Sì. So, intanto non ci guarda. Ma non direttamente sullo specchio. non direttamente. Abbiamo attaccato la pellicola, scusatemi ragazzi, forma italiano. Come sta andando Cristiana? Vedo che fa fatica di entrare nel live. No. Teniamo le dita incrociate. Fingers crossed. I think my head is turning a little bit green. No, it's perfect. Ok. Intanto vediamo un po'. This is a face. Perciò quando giocate con i vostri figli a casa e avete fatto questo lavoro, potete tranquillamente ripetere in questa maniera. This is a face as round as can be. These are my eyes. This is my nose, my red mouth and two little ears. This is my face as round as can be. Eyes, ears, mouth, nose just like me. And I think also Rafa is watching us. And what is Cristiana writing? Can you see that? Cosa sta scrivendo Cristiana? Cristiana, oggi mi ha inviato l'invito? Eh, sì. E sto aspettando che entri. Adesso vado a controllare Cristiana perché... Eh, sì. Però si vede che... Aspetta, riproviamo. Let's try again. Aggiungi Cristiana. Yeah. Ti stiamo aspettando Cristiana perché vogliamo tanto vedere quello che hai fatto te con Giulia e Martina a casa. E adesso ti ho appena, appena inviato un invito. Intanto guardiamo ancora questa... Spero che lo vedi Cristiana, mi puoi scrivere se non è arrivata nulla. Oh mamma mia. Intanto dovrebbe funzionare perché c'è scritto aggiunto in corso. Ah, questa tecnologia. Siamo molto triste. Non è arrivata nulla. Allora, riproviamo. We try again, l'ultima volta. So, if I made a face, can I make also a body, a little body? Yeah, you can do a little body. So, this is my face as round as can be, eyes, ears, mouth, nose, just like me. Ok, so Chanel is going to add a little body. Quindi, abbiamo messo la pellicola sullo specchio che dà un bellissimo riflesso in cui un bambino può lavorarci direttamente mentre il genitore può ripetere le parole in English. Perché durante il gioco viene creata magia. Magia fra genitore e bimbo. L'idea era che anche la mia bella amica e collega cristiana veniva nel live, però vediamo che abbiamo ancora problemi con la tecnologia. Yeah, great. So, Chanel added a body. E dopo vi mando le foto del lavoro che ha fatto Cristiana se non riusciamo a farla entrare. So, this is the body that Chanel is adding. What is the color of this t-shirt Chanel? The color of this t-shirt is blue. Yeah, it's blue. Ok. Allora. Ok. It's blue. Yeah, I think I'm going to stop here because I'm running out of blue paint. Ok, ragazzi, stasera vi abbiamo fatto vedere un'attività creativa come giocare in English con i vostri bambini a casa. E stay tuned perché fra poco arriverà una bellissima novità su Teacher Angel Echo. Bye. Thank you so much for watching. Bye, bye. Chanel, you are an artist, Masha says. Thank you. Thank you. I was born to do this. Oh, mamma mia. She was born to do this. Bye, bye. 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 Bye.